che arriva con estremo ritardo, ormai è tipico della giunta lenta, parliamo del piano sociale 21-23 e come al solito arriva ormai a 2022 inoltrato, è come se scontasse già un anno, l'anno precedente, il 2021, che viene sia approvato ma che ovviamente non riguarderà più questo piano. In secondo luogo perché c'è un atto di arroganza da parte della maggioranza, ben 31 associazioni e tante altre hanno ulteriormente scritto in queste ore chiedendo di poter essere audite, parliamo delle associazioni dell'area della salute mentale, delle persone più fragili e con diversi disagi, ai quali è stato risposto no, non vi ascoltiamo e anzi la richiesta delle opposizioni di ascoltare tutte queste numerosissime associazioni abruzzesi è stata bollata come un atto di demagogia e populismo. Terzo luogo, e anche in questo caso molto importante, dalle associazioni alla posizione stessa di tutti i colleghi della centrosinistra si evince che questo piano sociale dimentica la sanità, cioè non siamo più in presenza di un piano sociosanitario perché si appresta la giunta lenta a inoltrare al Governo nazionale e al Ministero l'utilizzo delle risorse del PNRR Sanità entro il 28 febbraio. Ben 216 milioni di euro che hanno a che fare con la rete territoriale della sanità ed anche con il sociale. Bene, non c'è scritto nulla di tutto questo in questo piano appunto e non c'è stato dato alcun momento di confronto per ragionare del PNRR territorio, sanità e sociosanità.